il mio saluto ovviamente ma soprattutto il saluto del capo di stato maggiore dell'esercito il gennaio masiello che non è qui perché come avrebbe voluto perché impegnato in attività internazionali in quel di garvis c'è la conferenza degli eserciti europei e voglio ringraziare veramente la link university il centro studio di machiavelli per questa opportunità perché è veramente un'opportunità unica che riunisce il meglio di chi si occupa di difesa nel nostro paese e le tematiche del panel dei vari panel sono state appena citate ma tutte molto interessanti vorrei iniziare con una frase proprio di machiavelli che 500 anni fa leggo e leggerò per stare nei tempi scriveva è comune difetto degli uomini non fare conto nella bonaccia della tempesta e la tempesta eccola qua se possiamo andare con la prima slide i conflitti attualmente in corso ci forniscono una prova evidente di quanto l'odierno quadro di sicurezza internazionale sia instabile e premeato ovviamente da nuovi mezzi e strumenti tecnologicamente avanzati ciò impone ancor di più che in passato preparare i nostri soldati equipaggiarli impiegarli e salvaguardarli al meglio delle nostre potenzialità e quindi necessario disporre di un esercito attrezzato per un ampio ventaglio di scenari dalla guerra convenzionale alle nuove frontiere di confronto quali lo spazio il cyber l'ambiente informativo un esercito che sia in grado di operare in sinergia con le altre forze armate e in armonia con tutte le articolazioni dello stato la capacità dell'esercito di operare in tutti i domini quelli classici ma anche quelli quelli classici quelli terrestri non solamente sul suolo ma anche nel sottosuolo come abbiamo visto anche recentemente e dicevo operare in tutti i domini richiede un processo di rinnovamento basato non solo su un vasto programma di ammodernamento e approvvigionamento di nuove piattaforme equipaggiamenti sistemi d'arma avanzati e tecnologie ma anche di innovazioni nelle strutture organizzative nella dottrina di impiego e nell'addestramento ovviamente delle nostre unità ecco perché ci siamo posti l'obiettivo di trovare un punto di fusione tra tecnologia addestramento e valori quali assi principali di sviluppo della forza armata seppur semplice questa ricetta è di difficile applicazione perché il risultato è il prodotto il risultato della ricetta il prodotto di questi tre fattori e non la loro semplice somma l'esercito se non è tecnologica se non è tecnologico non è se non è addestrato non è se non è sorretto da valori solidi l'esercito non è un esercito serve dunque una metodologia fortemente innovativa che dia slancio a un approccio globale ai problemi apertura e impulso al pensiero laterale capacità di analisi di ragionamento intuito sensibilità capacità creativa e soprattutto pragmatismo sarà anche necessario elenco mantenere il vantaggio tecnologico su eventuali avversari c'è da recuperare anche un gap con le forze armate sorelle la marina e l'aeronautica che dal punto di vista tecnologico sono sicuramente più avanti di noi bisognerà ridurre i tempi di individuazione delle tecnologie necessarie nonché nuove norme indispensabili per snellire le procedure e di tempi di acquisizione per poter essere maggiormente aderenti alla velocità con cui evolve il mondo intorno a noi bisognerà ovviamente continuare a dialogare come stiamo facendo da da sempre con l'industria della difesa non solo quella italiana ma anche quella europea affinché si impegni in investimenti indispensabili per rispondere alle reali esigenze delle forze armate ovviamente sarà necessario anche apportare un vero e proprio cambio di mindset l'esercito punterà in particolare sui giovani reclutandone sempre di più perché questi i nostri giovani sono avversi all'uso delle tecnologie all'avanguardia sono capaci di leggere e gestire i cambiamenti e assicurare il necessario travaso e scambio di conoscenze anche con la società civile venendo più in particolare i contenuti della della conferenza odierna mi soffermerò brevemente su tre temi che sono stati appena accennati e che sono fondamentali per lo strumento militare terrestre per la sua evoluzione la sua preparazione il rinnovo del parco mezzi corazzati il ruolo dei droni nella manovra terrestre la difesa integrata con partire particolare focus sulla difesa contraere a corto raggio per quanto attiene al rinnovo del parco mezzi corazzati il conflitto in ucraina ha riproposto l'esigenza di disporre di forze presanti moderne equipaggiate e addestrate per condurre azioni risolutive attraverso un impiego combinato di quella che è la formula classica di tutti i mezzi da combattimento corazzati la potenza di fuoco la protezione e la mobilità e io sono carrista per cui l'argomento mi tocca molto da vicino nasco da ragazzino nel 1985 carrista in quel di bellinzago novarese e ho avuto poi la fortuna di comandare l'accademia militare ma anche di fare il comandante della formazione dell'esercito nel 2020 subito dopo le chiusure della pandemia a lecce organizziamo per riprendere le attività che erano state interrotte organizziamo una prima esercitazione tentammo di provare una swarming operation con i giovani sottotenenti della scuola di applicazione giovani sottotenenti di cavalleria che per la prima volta praticamente salivano sui carri a riete e al termine di questa esercitazione li riunì e chiesi le loro impressioni ma soprattutto chiesi loro quattro anni fa come vi immaginate il carro armato del 2040 2045 sottotente della scuola di applicazione interrogato dal genere di corpo d'armata saggiamente tace sta zitto tutti zitti un solo sottotenente anzi una disse comandante se fosse possibile più comodo perché evidentemente aveva preso tante di quelle capocciate sul casco perché quando si sale per la prima volta sul carro armato succede ed effettivamente non aveva torto perché vivere sul carro armato non è facile allora gli sfida è così un attimo dissi vabbè pensiamo al pilota possiamo immaginare fra vent'anni 25 anni una guida autonoma fuori strada forse sì pensiamo al servente ci sono già i sistemi automatici di caricamento quelli sono scontati ma ve lo immaginate chiesi loro un androide instancabile perché mi viene sempre in mente guerre stellari no perché tutto ciò che l'uomo può immaginare poi magari lo può anche realizzare un androide instancabile che è lì che continua a caricare munizioni a ritmi che un essere umano potrebbe no anzi sicuramente non sarebbe in grado di leggere i sottotenti mi guardavano sempre più perplessi purissimo come lo immaginate voi il caschetto che oggi vi ha dato tanto fastidio del capocarro barra comandante ve lo immaginate per esempio con uno schermo dove tecnologia che già esiste oggi peraltro per per i piloti di caccia e anche per altre attività con uno schermo una una visiera all'interno della quale il capocarro il comandante è in grado di vedere cosa succede sul campo di battaglia è perché vi assicuro che la cosa peggiore per un comandante carrista è stare chiuso nel carro ai portelli chiusi perché alla visuale praticamente pari a zero se non quella che è data dagli iposcopi questi sottotenti iniziavano a vedere del perplessità sulla mia lucidità mentale e poi dissi ma come trasmetterà gli ordini il comandante del 2040 2045 con il suo caschetto ancora cercando di utilizzare una radio o gli basterà pensare e questo pensiero verrà trasmesso dal suo casco agli altri membri dell'equipaggio ma soprattutto agli altri membri dei carri agli equipaggi degli altri carri e lì ebbero la certezza dice il comandante è completamente pazzo però l'ultima l'ultima cosa che chiesi loro è ma negli altri carri ci saranno degli uomini o degli androidi perché basta guardare i film di fantascienza no uno dice ma non lo sa io non so cosa sarà la tecnologia da qui a vent'anni mi piacerebbe molto scoprire insomma tutte queste cosette e per dire che insomma i carri non sono una cosa facile da immaginare però la necessità di averli sarà ancora tale ciò richiederà il mantenimento ovviamente di una liquida di forze corazzate credibile ed efficiente in grado di fronteggiare le nuove sfide del campo di battaglia sfide che ripeto da vent'anni io non sono in grado di immaginare in tale ottica l'attuale stato di salute della componente pesante rappresenta una criticità questo credo che non sia un mistero per nessuno dei presenti in sala la ridotta disponibilità operativa delle piattaforme evidenzia un gap capacitivo che si è creato nel corso degli ultimi decenni a causa del lungo periodo di ipo finanziamento dello strumento militare terrestre che ha imposto alla forza armata decisioni non facili nella definizione delle priorità di sviluppo capacitivo tali decisioni si sono tradotte in rallentamenti evidenti nelle attività di ammodernamento del segmento pesante anche in ragione della priorità accordata alle forze medie e leggere maggiormente impiegate nelle operazioni fuori dal territorio nazionale oggi è necessario dare concretezza al rinnovamento dell'intero parco di piattaforme pesanti nel breve e medio termine a tal riguardo per recuperare le lacune capacitive accumulate nel corso degli ultimi anni è stata sviluppata un'azione che prevede l'applicazione di due linee di sforzo da un lato il mantenimento delle capacità operative delle piattaforme e sistemi già in uso i carriariete con il loro ammodernamento i dardo ed una liquida di piattaforme m113 dall'altro il rinnovamento dello specifico settore attraverso lo sviluppo dei programmi armory 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 combat system a due cs e may battle tank ovviamente ritenuti imprescindibili per raggiungere significativi incrementi capacitivi per questi ultimi due programmi occorrerà guardare a possibili sinergie partnership strategiche industriali anche nell'ambito di collaborazioni già avviate con innegabili vantaggi in termini trasferimento di tecnologia all'avanguardia e ricadute di know how funzionare a consolidare la base industriale assicurare al contempo l'autonomia e la sovranità tecnologica in un settore strategico per il paese più in particolare il programma due cs rappresenta il rinnovamento dell'intera famiglia di piattaforme corazzate impiegate essenzialmente dalla fanteria nelle versioni combat e combat support e dalle restanti unità dello strumento militare terrestre per le funzioni combat service e command support la progettualità lo scopo di equipaggiare nel suo volume massimo fino a cinque gruppi tattici di fanteria pesante e ultimare le dotazioni della brigata corazzata la brigata ariete di quelle pesanti sia quelle esistenti sia quelle da riconfigurare sulle quali costituire ulteriori gruppi tattici corazzati in tale ottica l'esercito intende acquisire un iniziale aliquota di piattaforme al fine di esprimere nel brevissimo termine un primo gruppo tattico operativo che consenta di testare e validare anche in funzione di risk reduction il requisito a premessa della produzione in serie con il programma main battle tank invece l'esercito intende soddisfare al più presto il gap capacitivo relativo alla principale piattaforma da combattimento a tal fine sono state avviate diverse attività volta a esplorare la possibilità di acquisire piattaforme corazzate mbt e derivati di nuova generazione quale soluzione integrativa alla flotta rieta modernata l'acquisizione di questa piattaforma dovrà consentire di disporre di una capacità che abbia già soluzioni tecnologiche all'avanguardia in pratica è una famiglia di piattaforme che guarda già al futuro e al futuro e al carro del 2040 2045 il main ground combat system ehm che come dicevo prima è tutto da immaginare e da lasciare immaginare ai nostri giovani ufficiali per quanto attiene invece al ruolo dei droni nella manovra terrestre la rapida evoluzione ho detto ufficiali e mi sono sbagliato no ai nostri giovani ufficiali sotto ufficiali graduati e soldati perché le idee sono di tutti e non hanno grado ovviamente anzi molto spesso le idee che vengono dal basso sono quelle vincenti per modificare eh le strutture dicevo il ruolo dei droni eh la crescente complessità dell'ambiente operativo hanno imposto ai comandanti ai vari livelli la necessità di disporre di un quadro di situazione sempre più accurato e aggiornato funzionale a facilitare i numerosi processi divisionali volti al conseguimento degli obiettivi revissati in tale contesto utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presenta carattere di rilevante importanza sia per la capacità di supportare la cerca informativa la funzione operativa di intelligence attraverso la generazione e lo sfruttamento di prodotti imint di immagini eh sia per la spiccata connotazione dual use l'esercito da tempo intrapreso un percorso di rinnovamento della struttura organizzativa volta all'implementazione delle informazioni tattiche tramite l'impiego di assetti remotizzati inoltre gli ammaestramenti derivanti dai recenti conflitti hanno evidenziato l'eccedenza di dotarsi di velivoli con capacità di ingaggio integrata al fine di colpire obiettivi puntiformi che sono ritenuti estremamente paganti lo strumento militare terrestre al fine di garantire la propria superiorità nel dominio cognitivo in tutto lo spettro dei conflitti e delle crisi è iniziato anche l'acquisizione di un variegato set capacitivo di sistemi specialistici ad elevata prontezza operativa è in grado di fornire un ampio diversificato supporto informativo ai comandanti nello svolgimento delle principali attività militari in tale quadro è stato avviato un processo di potenziamento della capacità apr in favore di tutte le unità dell'esercito cavallerie reggimenti di fanteria e così via con sistemi delle classi mini e micro caratterizzati da un range operativo da 10 a 60 chilometri circa al fine di aumentare l'autonomia nella condotta di attività tattiche terrestri inoltre i droni di classe micro dovranno essere parte integrante delle nuove piattaforme mbt e vbm esplorante e anche nel breve periodo vedremo di colmare l'attuale gap esistente nella capacità di acquisizione e trasmissione dei dati tramite sensori integrati in un range operativo superiore ai 125 chilometri il moderno campo di battaglia discende da quanto ho appena detto è assolutamente trasparente esso infatti contraddistinto da un impiego massivo e pervasivo di assetti asr soprattutto anch'io cioè non pilotati senza un equipaggio che congiuntamente all'incremento delle capacità di ingaggio rende estremamente complesso l'occultamento all'osservazione nemica e offre l'opportunità di predisporre repentinamente azioni convergenti cinetiche e non finalizzata a degradare o neutralizzare la capacità di combattimento dell'avversario in riferimento alla minaccia proveniente dalla terza dimensione occorre evidenziare una significativa riduzione delle operazioni condotte con assetti aerei con equipaggio a favore di un uso estensivo e concentrato di droni da combattimento combinato con loitering munition e missili balistici senza tralasciare ovviamente le minacce trasversali connesse con lo sfruttamento dell'ambiente elettromagnetico e del dominio cyber tale modus operandi è volto a saturare lo spazio aereo e stressare i sistemi controaerei creando di fatto dilemmi multipli all'avversario oltre a determinare un elevato tasso di attrition in termini di munizionamento è dunque necessario realizzare una protezione stratificata multilivello dalle minacce provenienti dalla terza dimensione basata sull'integrazione di molteplici sensori attuatori che sostenuti da un'adeguata capacità di comando e controllo possano operare sinergicamente come un sistema unico consentendo di ingaggiare la minaccia in profondità con il miglior attuatore a disposizione gli sviluppi capacitivi saranno orientati ad accelerare il processo decisionale e ridurre i tempi di intervento mitigando al contempo il rischio derivante dalle minacce cosiddette sima cyber electromagnetic activities con particolare riferimento alla protezione a cortissima portata delle unità tattiche dovranno essere perseguiti adeguati livelli di mobilità e protezione delle unità VUSHORAD e la convergenza sulle stesse delle capacità CONTAR-YS e CIRAM CONTAR-ROCKET ARTILIERIA E MORTARS con particolare riferimento alla protezione e infine la difesa integrata dovrà evolvere nel lungo periodo verso un'architettura innovativa distribuita che permetta ai singoli elementi delle capacità contraerei di comunicare e cooperare orizzontalmente consentendo il cooperative engagement ciò permetterà di scegliere la migliore soluzione di ingaggio possibile per ogni tipologia di minaccia secondo il principio any sensor best shooter volgendo alle conclusioni ritengo che nell'incertezza del contesto geopolitico attuale è nostra responsabilità assicurare che l'esercito sia supportato da un appropriato livello di tecnologia che lo renda in grado di affrontare le sfide future di mantenere un effettivo vantaggio strategico e di cogliere le opportunità e affrontare le minacce emergenti ma l'industria nazionale deve fare uno sforzo anche oggi per assicurare la necessaria ricambistica alle flotte legacy in particolare a riete e dardo perché questi meggi oggi sono schierati in molti paesi del fianco est della nato e vi assicuro che la frustrazione dell'esercito è per certi versi quella di sentirsi richiedere la nostra presenza in quei teatri e magari dover rinunciare proprio perché le flotte legacy non hanno un sufficiente tasso di efficienza per poter schierare ulteriori mezzi fuori dal territorio nazionale la condizione essenziale per raggiungere questi obiettivi e quella di adottare una policy di formazione del personale anche ovviamente che nelle diverse competenze ed attività si occupa di difesa formazione del personale orientata all'integrazione capace di alimentare una forma di cultura organizzativa in cui l'orizzonte di conoscenze abilità e competenze superi quello di ciascuna articolazione la seconda condizione maggiormente collegata ai temi che saranno trattati durante questa mattinata è quella di una profonda evoluzione dello strumento militare sul piano tecnologico in particolare che lo renda un unicum realmente integrato interoperabile complementare e armonizzato capace di conseguire gli effetti strategici desiderati nell'ambiente fisico in quello cognitivo il nuovo dominio un ulteriore probabilmente dominio il dominio cognitivo e nell'ambiente virtuale i nostri soldati combatteranno nei futuri campi di battaglia utilizzando nuove tecnologie e sistemi che ne esalteranno le capacità di adattamento ma continuando ad applicare gli antichi e sempre validi principi dell'arte della guerra che solo lo studio della dottrina della storia e della dottrina ci insegnano io vi ringrazio per l'attenzione e buona persecuzione grazie